Le onoranze funebri da Dante offrono un servizio completo, organizzano funerali e garantiscono il trasporto della salma su territorio nazionale ed internazionale. La storica azienda di Chieuti, con discrezione e professionalità, è a disposizione di ogni famiglia per la fornitura di cofani funebri di pregio, urne cinerarie, lapidi, monumenti cimiteriali, ornamenti ed allestimenti floreali. L'agenzia offre inoltre un supporto concreto per il disbrigo di ogni pratica, sollevando la famiglia da qualsiasi preoccupazione. Onoranze funebri da Dante. Professionalità etica.